Una trappola nella quale lui è caduto purtroppo, sono malgrado, perché comunque era molto ben orchestrata. E accusato di riciclaggio e tentato riciclaggio un imprenditore a retino che secondo gli inquirenti si sarebbe detto disponibile a cambiare soldi di provenienza illecita che gli avrebbe dovuto consegnare un franco israeliano con soldi puliti guadagnando una provvigione del 20% sulla somma. Questa è una provvisione che si apparentemente sembra essere molto alta, in realtà è abbastanza allineata con la provvisione che molte banche svizzere stanno praticando lecitamente, almeno in Svizzera, ai soggetti che intendono cambiare le banconote da 500 euro con banconote di più piccolo taglio, che è pari al 7-8%, perché c'è un progetto di legge, poi non so se arriverà, non so che tipo di esito avrà, che prevederebbe la messa fuori corso delle banconote da 500 nel corso dei prossimi anni. Lo scambio, che in realtà non è mai avvenuto, era fissato per il primo marzo all'interno di una camera al quarto piano di un lussuoso hotel milanese. Da un lato 300 mila euro in taglie da 500 e dall'altro 250 mila euro in banconote da 50, 100 o 200. Ma proprio nella stanza dell'albergo ha fatto irruzione la guardia di finanza di Arezzo, che ha posto sotto sequestro i 250 mila euro e i video registrati dalle telecamere montate per immoltalare quello scambio dallo stesso imprenditore. L'uomo infatti aveva incaricato un'agenzia di sicurezza. I filmati adesso saranno utilizzati dalla procura di Milano, titolare dell'inchiesta, per ricostruire l'intera vicenda. Secondo la rifiuta è stata vittima di una truffa e comunque il tentativo, laddove fosse ipotizzabile come tentativo di riciclaggio, asserendo quello che sostiene l'accusa, comunque sarebbe interrotto alla luce della valutazione di inaffidabilità e di incapienza dei soggetti mandati dal riciclato, così si chiama tecnicamente quello che vuol riciclare il denaro, perché sarebbero state persone del tutto inappropriate e inaffidabili. A mandare a Monte lo scambio sarebbe stata infatti proprio l'assenza del facoltoso Franco israeliano che al suo posto aveva mandato due donne. Le persone che si erano presentate erano prive e dell'utilità economica che serviva a fare lo scambio, appunto i 300 mila euro, e dei requisiti di affidabilità che potevano pensare di poter portare ancora avanti questa attività. La difesa adesso annuncia che ricorrerà al riesame per dissequestrare i contanti.